Sono iniziate stamani in Piazza del Duomo l'operazione di allestimento, il montaggio delle tribune in vista del festival Settembre Prato e Spettacolo che prenderà il via il 27 agosto. 8 date in programma, il concerto di Giulia Mazzoni è stato rinviato con 6 concerti qui sul palco di Piazza del Duomo e altri 2 nella suggestiva cornice di Villa Guicciardini. Il concerto della pianista pratese Giulia Mazzoni è stato spostato di data e di luogo a causa di irrisolvibili complicazioni tecniche per ragioni indipendenti dal festival e dell'artista, fanno sapere gli organizzatori, l'evento si svolgerà al Teatro Politeama Pratese il 4 dicembre prossimo. I biglietti acquistati rimarranno validi per la nuova data, eventuali rimborsi potranno essere richiesti entro il 10 settembre sul sito ticketone.it. Per tutti gli altri concerti in programma proseguono le prevendite. Le prevendite vanno molto bene, manca una settimana all'inizio del festival, partiremo con il concerto CCCCP fedeli alla linea che registra un buon riscontro di pubblico, ma l'abbiamo visto già sin dall'apertura delle prevendite, a pochi giorni erano già stati staccati mille biglietti. Sono sostanzialmente quasi esauriti i concerti di Panariello Masini e De Gregori, per cui invito gli ultimi ritardatari ad affrettarsi perché non credo che rimarranno biglietti disponibili poi la sera in cassa. Verso l'esaurimento anche il concerto di Roberto Vecchioni in Villa Guicciardini che chiuderà il festival il 12 settembre, come ormai da tradizione ci spostiamo alla Piazza del Duomo in Vallata in Villa Guicciardini. Per i De Colors invece a grande richiesta abbiamo aggiunto degli ulteriori posti a sedere che vanno a sostituire i posti in piedi, per cui chi volesse troverà proprio da oggi disponibili nuovi posti a sedere, perché ricordo che la tribuna a sedere per il concerto di De Colors andò esaurita già a metà luglio. Per cui l'invito è a continuare a seguire gli eventi del settembre sul nostro sito e sui nostri canali social e affrettarsi per chi vuole acquistare il biglietto. Ricordo anche che però il settembre non sono solo i grandi eventi qui in Piazza del Duomo dove oggi abbiamo iniziato gli allestimenti, ma ci sono anche tante piccole iniziative da scoprire dal Palazzo Pretorio alla passeggiata sonora sulla sponda del Bisenzio, per cui insomma è un programma che penso possa accontentare anche quest'anno i gusti variegati del nostro pubblico.